Allora, rapidamente avevo accennato la Fidelity Card che comunque è continua oppure no? Come è andata? Il progetto è continua ed è ancora in continua evoluzione, ha avuto degli ottimi riscontri, molte attività locali si sono affidate al progetto e molte tessere sono anche state date ai nostri clienti più fideliti. Quindi è un progetto ancora in espansione, colgo l'occasione per dire anche alle altre categorie, alle altre esercizi commerciali che se si vogliono affiliare siamo ancora all'interno di questo bacino dove è possibile perché tante sono veramente le attività soprattutto negli ultimi periodi quando è cominciata la stagione dove hanno dato la loro adesione. E quindi c'è uno sconto per chi ha questa Fidelity Card? Esatto, per i possessori di Fidelity Card presso queste attività convenzionate c'è uno sconto e anche poi una raccolta appunti che poi alla fine andrà a premiare il cliente che più l'ha usata presso i nostri esercizi convenzionati. Lei mi diceva prima Musei di Cesani, c'è qualcos'altro oltre a questo? E come siete organizzati anche lì per la visita? Certo, beh allora un ringraziamento particolare deve essere fatto alla Fondazione Felice Fortunato e anche alla Curia perché insieme sono riusciti a mettere insieme queste tre parti storiche Duomo, la Santissima Trinità, la Pinacoteca e anche l'Orologio, l'Otore dell'Orologio dove attraverso un biglietto unico si può accedere e visitare entrambi le strutture. Quindi basta recarsi presso anche una delle nostre attività, anche noi siamo convenzionati possiamo dare la possibilità di dare questi biglietti che valgono per l'intera giornata se per qualche motivo non si riesce anche a visitare il completo giro di questa storia di questo turismo religioso si può anche poi usufruire del biglietto anche il giorno dopo. E questa è una bella cosa insomma, quindi dare una possibilità. Sono tre chicche di chioggia più che di sottomarina che comunque sono veramente da visitare perché sono delle cose stupende. La cultura che offre chioggia va al di là di ogni qualsiasi cosa si possa immaginare e tuttora noi come consorzio lo stiamo rivivendo, riscoprendo, ritrovando grazie anche al lavoro di tante persone. Ma la forte presenza di italiani al mare ha portato benessere anche ai negozianti come lo era con i turisti stranieri, la mia è una provocazione Gianni perché tanti hanno detto che gli italiani non spendono tanto quanto gli stranieri. Questo è un dato di fatto che potrebbe un po' anche isolare nella città in cui sono stati in vacanza però ecco noi italiani se abbiamo questa pella la direi quasi di entrare in un negozio per curiosità E poi naturalmente acquistiamo Sicuramente quando usciamo abbiamo sempre qualcosa in mano Le donne soprattutto, le donne chicche E beh ovviamente sono sempre compatite dagli uomini quindi quando si esce qualcosa bisogna sempre portare a casa Soprattutto anche quando si va a Sottomarina a Chioggia, soprattutto anche a Chioggia ecco ci sono molti negozi che vendono souvenir particolari, molte cose fatte in casa E per cui gli italiani hanno speso come gli stranieri Poi molto spesso e volentieri quando si approda soprattutto anche per quanto riguarda le spiagge italiane Mi rigo proprio al discorso di Sottomarina Il cliente capisce già qual è la prospettiva di spesa Al bar, il pranzetto al bar o il pranzetto in questi ristoranti Quindi secondo me la voglia che si è vista quest'anno di spesa è anche stata soprattutto condizionata Legata a una voglia di evadere finalmente Da tanti timori che c'erano all'inizio stagione Allora, una domanda che è un dato di fatto Capitale della cultura, c'è una candidatura Forse non tutti ne sono a conoscenza Ma siete candidati come Capitale Europeo della Cultura 2024 Candidatura intanto, questo sarebbe un volano proprio per tanti aspetti fuori stagione No, straordinario? Sì, è una candidatura che noi abbiamo dato subito la disponibilità Come Federal Berghie, che oggi è Sottomarina E anche come il consorzio di promozione che Paolo oggi, anche se vicepresidente della nostra associazione di Federal Berghie Però rappresenta anche il consorzio di promozione turistica lì di Chioggia Che magari potresti dare tu un accenno specifico su questa cosa Assolutamente, leggevo il messaggio prima che un telespettatore ha riconosciuto la signora che fa gli gnocchi E ha detto che sono buonissime ed è bravissima Quindi riportate, eccolo qua Che la conosce, è bravissima e sono buonissime Bene, una gratifica per la signora, per la cuoca Prego Non è l'unica, ce ne sono anche tanti C'è assolutamente Mi è arrivato il messaggio che ha mandato il nostro telespettatore Sì, Chioggia comunque Cioè sarebbe una bella cosa che passasse questa cosa qui Perché insomma è una città È una candidata possibile alla Capitale della Cultura 2024 Molte categorie turistiche la stanno sostenendo Questo permetterebbe anche comunque a una destagionalizzazione della nostra località Anche perché gli stranieri sono molto attratti da queste cose Come quando dice il città UNESCO Sono ghiotti di queste opportunità Esatto, io non sono Anche gli italiani, diciamo Spesso volentieri Anche sui nostri turisti che sono venuti presso le nostre strutture Ci hanno proprio chiesto anche delle informazioni Decenni anche legate un po' alla cultura Che lega Sottomarina e Chioggia Quindi l'ottica sarebbe quella appunto di raccogliere Anche magari eventuali informazioni Ecco per poterci organizzare meglio L'appello viene anche fatto A steso anche tutte le altre categorie economiche e turistiche che lavorano Per poter portare Chioggia a una possibile calendata della cultura 2024 Anche perché poi c'è un milione di euro in palio Esatto Non è poca cosa Diciamo che sì Oltre che alla gratificazione economica Ma noi credo che puntiamo al titolo Eh sì È un titolo che ci si aspetta No ma questo può aiutare la città a fare quegli abbellimenti Il momento di svolta è venuto quando la fondazione Felice e Fortunato Hanno dato l'adesione Che loro sono la massima espressione della cultura Della cultura, dell'arte Perché loro gestiscono, attore dell'oro Come diceva prima il nostro vicepresidente Gestiscono i gioielli storici della città di Chioggia Sì che da quel momento lì quando hanno fatto l'adesione La curia e la fondazione Da quel momento lì è partito il tutto Ecco Quindi potrebbe essere un restyling per Sottomarine e per Chioggia Quindi tanto ce n'è bisogno Sì è un restyling per Sottomarine e Chioggia È un'idea che è partita da un carissimo amico mio Che ci tengo a citarlo Si chiama Pino Penso È una persona che darebbe la vita per la città di Chioggia E questa idea è partita da lui L'ha allargata sempre di più Ci ha coinvolto noi E sta facendo strada Mi sembra che adesso sia stato mandato anche a un manager Che prepari il progetto Eh sì A una società credo che ci sia E spieghiamo in bene Ognuno però deve fare la sua parte Non ci devono essere magari Beghe di altro genere Prima e donne Seconda ma una squadra che lavora unitariamente Assolutamente Che prospettive vi date adesso Parlo anche lei come Consorzio di Promozione Turistica Per questo periodo di intrastagionalità Diciamo così Prima dell'estate ce ne vuole purtroppo Beh allora Perché c'è il Carnevale Dopo di mezzo Ma prima c'è anche il Natale Potrebbe essere anche quella Una bella opportunità Allora noi come Consorzio stiamo Noi intendo il sottoscritto assieme al Presidente Consiglio Direttivo Abbiamo cominciato A marzo dell'anno scorso A preparare dei pacchetti turistici Che possono incentivare La destagionalizzazione Quindi puntando su periodi Legati a Natale A Capodanno E a Pasqua Ah beh Potrebbe essere una bella idea Sono dei pacchetti di promozione Che coinvolgono un po' tutta la città Perché non si tratta solamente Di coinvolgere le strutture ricettive O gli stabilimenti balneari Ma si tratta anche di coinvolgere Le economie locali Territoriali Quindi attraverso i ristoranti Attraverso appunto Come si diceva prima Ai musei Convolgendo anche le motonari Che vanno a fare i giri Per il canale di Chioggia Con tanto di spiegazione Alle motonari Che prendono il pescato del giorno Te lo cucinano a bordo E lo mangiano a bordo Quindi stiamo preparando dei pacchetti Per scoprire Soprattutto Chioggia Sottomarina Dobbiamo anche per forza di cose Ingolubare anche qualche giro Verso le isole limitrofe Canomale e Pellestrina Che sono Beh sono vicini Esatto Sono molto vicini C'è stata di Beccanomale Dalla parte opposta Del porto di Chioggia Quindi basta solamente L'attraversata A Pellestrina Sono altri Sì per dare un'offerta Un po' più variegata Esatto E poi stiamo anche studiando All'interno Della scoperta Nel nostro territorio Qualche doveroso giro Che avrà il suo Venezia Da turista vi dico Che problema di località Come Chioggia È che vivono tre mesi l'anno E poi quasi il nulla Peccato Ma è proprio questo Che noi stiamo da anni Con la associazione del bregatore E poi soprattutto con il consortio Stiamo cercando proprio di fare questo Di andare al di là Di questi tre mesi estivi Ma infatti perché ci sono città In giro per il mondo Per l'Europa Dico per il mondo Che riesciamo a stare Anche per l'Italia Che hanno Sono di mare Sono proprio Hanno la stessa vocazione Sono magari meno belle Di Chioggia Ma vivono tutto l'anno Per cui il fine settimana Le persone vanno I locali sono aperti Invece c'è un periodo Tanto lungo da noi È tipico Da noi In cui tutto chiude Non tra i negozi sono chiusi C'è una tristezza Ma beh dico anche Iesolo Cioè fai fuori stagione Mamma mia Ma bisogna specificare bene Perché se noi parliamo Che poi non c'è nulla Lo parliamo sul sistema balneare Perché è chiaro che la spiaggia E vabbè per forza Ma dico i negozi I bar Ci sono tutti Noi abbiamo 48.800 abitanti La nostra città è bella anche d'inverno Perché abbiamo un mercato Per esempio il giovedì È il più bello Io credo Il mercato di cosa? Il mercato di cosa? Il mercato di chioggia Arrivano da Padova Da Vicenza Da Verona Giovedì mattina Giovedì mattina È fenomeno Durante i venerdì Sabato e domenica Abbiamo tantissimi Quindi stamattina insomma Stamattina Abbiamo tantissime persone Che vengono Per acquistare il pesce Al minuto O mangiano sui ristorantini Noi abbiamo una riva Che si chiama Riva Vena La famosa Riva Vena La stiamo aiutando A svilupparsi Noi facciamo la promozione Mandiamo gente E automaticamente Avremo bisogno Delle concessioni Da parte dell'amministrazione comunale Per dare quello sprint Più a Riva Vena Però venerdì Sabato e domenica Ma anche da giovedì Cominciamo adesso C'è sempre gente Basta che vada La giornata di sole Abbiamo gente Forse se ci ricordiamo La città di Chioggia Stomarina Che l'abbiamo vista Solamente nel mese di agosto Poi veniamo In passata Ma penso che neanche Si cerchi quella Come anche si diceva Ovviamente L'intermezzo pubblicitario Che ieri E anche nell'altro ieri Sottomarina Era stata presa da salto Da turisti Soprattutto giornaliere Pendolari Ma Nel momento in cui Il primo fine settimana Risulta essere Soprattutto nei primi mesi Per i primi mesi dell'anno Verso la primavera Un fine settimana Molto buono I nostri parcheggi Le nostre strade I nostri avvenimenti Balneari Anche per una semplice Passeggiata di spiaggia Sono presi da salto E le gelaterie E tutti quanti I barri strumenti Sono aperti Ecco Questo è importante dirlo Perché magari le persone Pensano di trovare chiuso E mi piacerebbe Questa persona Che ha scritto Di tre mesi Se viene a trovarci adesso Controverà sicuramente Una lucratta Che è ancora aperta Pronto ad alcohire Qualsiasi tipo di turista E lo siamo anche Fino alla fine dell'anno Perfetto Io vi ringrazio Il tempo è volato Avremo magari ancora Opportunità di raccontare cose Di documentarli Farle vedere Fate le foto Portateci nelle immagini Del mercato di Chioggia Che così lo faremo vedere I nostri telespettatori Grazie di averci seguito La puntata come sempre In replica sul web La potete seguire A rivedere Poi ovviamente Prenotate e seguite I nostri Lidi di Chioggia Grazie ancora Buon proseguimento